E' lo sprint per la seconda piazza, quello per accaparrarsi uno degli ultimi due posti playoff ancora disponibile a tenere alta l'attenzione sul campionato di Serie A. Alle spalle di Milano, vittoriosa nel posticipo di Montegranaro, le inseguitrici hanno perso, Cantù a Caserta e a sorpresa Brindisi, prossimo avversario della Giorgio Tesi Group, in casa con Bologna. E' tornata il successo Siena che, non curante dei gravi problemi societari, ha strapazzato la malcapitata Avellino, proponendosi come più affidabile antagonista dell'Armani. E' risalita anche Roma che ha superato il fanellino di Coda Pesaro grazie a una bella prova di Bobby Jones, mentre sono arrivati due punti d'oro per Reggio Emilia, Cauchenas 19, che in casa ha mietuto un'altra vittima. Nell'occasione è l'alterna a Sassari. La nostra classifica è lo specchio del nostro campionato, lo è la nostra classifica, lo è il fatto che siamo a una Final Four di Euro Challenge. Evidente che abbiamo trovato un po' di continuità, parlo delle ultime due settimane, i risultati si sono fatti vedere, ma noi a parte, probabilmente se devo recriminare veramente su qualcosa, sono i due punti di Caserta con quello che è successo a Caserta. Se no, questa è la nostra classifica. Dobbiamo smettere di pensare che questa squadra qua sia molto più forte di quello che sta facendo, perché se no tutte le volte dopo viene una delusione. Noi siamo così, dobbiamo arrivare, se manteniamo il settimo posto siamo perfetti. Già detto del successo di Varese su Pistoi è tornata in corsa per prolungare la stagione anche Venezia. Taylor 26, Smith 23, che ha abbattuto la debole resistenza di Cremona. Non lavoriamo specificamente, magari facciamo qualche punizione in più durante l'allenamento, quando si perde la palla, ma per essere più concentrati. Diciamo che oggi i playmaker, sia Vitali che Johnson, hanno fatto un ottimo lavoro.